Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD con Francesco Boccia dice che l'autonomia differenziata, quella che loro hanno inserito in Costituzione nel 2001, perché l'autonomia differenziata l'ha voluta la sinistra, l'hanno messa loro nella Costituzione nel 2001, non so se lo sapevate, quindi erano loro che volevano l'autonomia. Oggi invece hanno raccolto le firme per cancellarla, in quanto diventa improvvisamente una cosa assolutamente negativa, e voi direte perché? È perché lo vuole fare la Meloni, questa è la realtà. La Meloni che vuole fare l'autonomia, la sinistra dice no, ma è una presa di posizione a prescindere, a priori, ideologica. E a questo punto dicono che l'autonomia è socialmente pericolosa. Boccia aggiunge, resto convinto che avessimo imboccato la strada giusta perché la nostra proposta appoggiava sul principio di sussidarietà e non a caso fu la legge quadro approvata all'unanimità da tutte le regioni e anche dalle città metropolitane. Ma soprattutto noi mettemmo subito le risorse sul tavolo, 4,6 miliardi con la legge di bilancio destinati al fondo di perequazione per le infrastrutture, che in dieci anni sarebbe dovuto arrivare a 50 miliardi, dice il presidente dei senatori del PD in un'intervista al Sole 24 Ore. Calderoli, invece, conferma la pericolosità della legge. L'autonomia finanziata dalla spending delle regioni e uno simoro, oltre che uno strafalcione giuridico, le funzioni anziché le materie senza risorse disarticolano in ogni caso le istituzioni regionali. Dallo Stato centrale indeboliscono il principio di coordinamento della finanza pubblica, che la Costituzione assegna allo Stato centrale senza tentennamenti. LEP e LEA non sono la stessa cosa e il ministro continua a non dire dove troveranno gli 80-100 miliardi necessari per finanziare i LEP. Paragona poi grottescamente la sua legge a invarianza di spesa che è un collegato strumentale senza risorse alla legge di bilancio, alla riforma della previdenza del governo Monti del 2011, che di fatto valeva tutta la manovra 2012 e per questo motivo il referendum non fu accolto. Calderoli e il governo Meloni non si sostituiscono anche alla consulta. La loro insofferenza per i contrappesi democratici è nota, ma la Corte Costituzionale non ha bisogno dei consigli di Calderoli. Allora, il punto è questo. La sinistra aveva inserito in Costituzione l'autonomia nel 2001, 24 anni fa. Poi questa autonomia non è mai stata fatta, però è nella Costituzione, c'è scritto che si può fare, ma non è mai stata fatta. Problema di soldi c'era ai tempi e di accordo definitivo. Oggi si ritorna all'autonomia. Francesco Boccia dice che ci vorrebbero 80-100 miliardi. Devo correggerlo. Per fare l'autonomia ci vogliono, minimo, 170-180 miliardi. Minimo. In realtà saranno magari 400. Perché con i famosi LEP devi portare tutta l'Italia a un livello sufficiente di trasporti, servizi e sanità. Quindi devevi far sì che al sud sanità e trasporti, per esempio, siano a livello sufficiente. Oggi non lo sono. Quindi oggi la società italiana è divisa. È divisa. È già divisa. L'autonomia non farebbe altro che riavvicinarla, perché le regioni del centro-sud dovranno raggiungere in trasporti, sanità e istruzione un livello sufficiente. E per raggiungerlo ci vogliono 180 miliardi minimo. Non sono 80-100, non sono 4,6 che la sinistra aveva già messo quando voleva l'autonomia. 180 miliardi non c'erano, non ci sono e non ci saranno mai. Quindi la Meloni lo sa che questa autonomia non si farà mai. Lo ha sempre saputo. Adesso è stata votata in Parlamento e prima di tutto dovrà andare al referendum. Poi se passa il referendum arriva un altro referendum abrogativo da parte della sinistra che ha raccolto le firme. Quindi l'autonomia dovrà passare due referendum, no? Che è difficile che li passi, perché la maggioranza degli italiani non è favorevole, anche se non conosce bene che cos'è questa autonomia. Dice meglio rimanere nella condizione attuale che chi lo sa. Magari peggiorarla, magari migliorarla. Quindi rimaniamo così che va bene così. Quindi le persone sono diffidenti su questa autonomia, soprattutto al centro-sud e più che altro perché viene proposta insistentemente della Lega, quella Lega che voleva dividere l'Italia, quella di Bossi. Quindi capite che agli italiani, anche se gli dici guarda che l'autonomia andrebbe avvicinare le varie Italia, perché portando il centro-sud almeno sufficiente sulla sanità sui trasporti avvicinerebbe, non dividerebbe ma avvicinerebbe. Però per quanto lo puoi raccontare questo, agli italiani solo sentire la Lega voleva l'autonomia, alla Lega quelli della Padania. Solo a dire questo la gente dice no. Anche se tu gli spieghi che guarda che avvicina, ti vota no. Quindi prima di tutto questa autonomia deve passare due referendum e la vedo molto dubbia. Ammesso che poi passi i due referendum e gli italiani in maggioranza vogliano davvero l'autonomia differenziata non potrebbe mai cominciare perché non ci sono e non ci saranno mai i soldi per fare questi famosi LEP. Quindi credo che noi ormai stiamo parlando di un qualcosa che alla fine non si farà mai. E forse devo dire anche il ponte sullo stretto. Siamo al 10 di agosto, doveva cominciare massimo a marzo e non è stata posta neanche la prima pietra. Quindi credo che autonomia, ponte sullo stretto, tutte queste cose si volevano fare ma alla fine probabilmente non si faranno mai. Per burocrazia, per questione di soldi, per lentezze e per gli italiani che votano no. Grazie a tutti e arrivederci a presto.